Ciao a tutti, è felicissimo e onorato di ricevere questo premio. Fabrizio, la differenza l'ha fatta al voto che mi sono dato, quindi abbiamo fatto comunque tutti e due un'annata fantastica e forse l'avresti meritato anche più te di me perché hai vinto il campionato con 5 giornali d'anticio. Quindi grazie a tutti, ringrazio logicamente la società, il mio staff e i giocatori che hanno fatto qualcosa di fantastico. Grazie.